Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Che cosa racconta di noi la stampa estera? Che cosa dicono siti e televisioni? Ecco qui comincia un'altra settimana di Ristretto italiano. E la notizia principale che ci riguarda e che ha una copertura importante in molti paesi del mondo è che per il rischio di attentato terroristici l'Italia pensa di sospendere le annuali celebrazioni delle forze armate del 4 novembre. Tra i tanti siti, tra i tanti quotidiani che ne parlano, la notizia la prendo, non a caso, da Times of Israel, che titola Rischio terrorismo. L'Italia intende cancellare la celebrazione annuale delle proprie forze armate. La notizia è stata anticipata da Guido Crosetto, che è il ministro della difesa, il quale, senza menzionare una minaccia concreta, ha contestualizzato l'ipotesi nell'ambito del conflitto in corso tra Hamas e Israele. Ha detto inoltre di temere che l'omicidio dei giorni scorsi a Parigi non resti un atto isolato. Ho l'obbligo di pensare al peggio, ha detto ancora, e diciamo che il tutto di questi tempi sarebbe, rappresenterebbe il non fare la festa delle forze armate, anche un discreto risparmio economico. Questo però l'ho detto io, non l'ha detto Crosetto. E ha fatto molta impressione, cambiando argomento, l'incidente bis di Mestre. Solo feriti, per fortuna, ma un altro autista che perde il controllo e si schianta contro un edificio. Dalla Bulgaria ne scrive Pronius Dobric, che titola 15 persone ferite in un nuovo incidente d'autobus a Mestre nel nord Italia. Si parla di un altro autobus elettrico, della stessa compagnia di quello precipitato dal ponte, uscito di strada in una curva e finito contro un edificio residenziale. A questo punto, ha detto il sindaco, tutti i mezzi sono della stessa impresa e verranno fermati. Proprio nei giorni scorsi la procura del capoluogo Veneto ha avviato un'inchiesta con tre indagati, che sono uno proprio il responsabile di questa ditta, e gli altri due funzionari del comune di Venezia addetti alla manutenzione del ponte, sul quale si verificò il tragico incidente, con oltre 20 vittime, mi sembra di ricordare 21, di due settimane fa. Economia. L'Italia vuole portare in borsa le ferrovie, ed è una notizia che non riguarda solo l'Italia. E anche per questo il titolo è Del Belga et Belang van Limburg. Il governo italiano, in sintesi, vuole quotare una quota importante della compagnia ferroviaria nazionale, generando miliardi per le casse dello Stato. 5 miliardi, per fare una cifra, sarebbe l'obiettivo dell'OPA, vendendo circa un terzo delle azioni, come sarebbe riuscito a sapere Bloomberg, anche se le conferme ufficiali non ci sono. Però, quando la notizia è da Bloomberg, che ha degli insider, soprattutto al Ministero dell'Economia, è d'obbligo crederci, fino a prova contraria. Ferrovie dello Stato possiede Trenitalia, oltre alla controllata responsabile dell'infrastruttura ferroviaria, e non è ancora chiaro se la vendita riguardi solo Trenitalia o anche, appunto, RFI. L'Italia del governo Meloni, continua l'articolo belga, sta procedendo alla privatizzazione parziale o totale di molte aziende pubbliche, e il risultato atteso si aggira sui 20 miliardi di euro, denaro con il quale il Paese potrebbe rafforzare le finanze pubbliche e togliere un po' di pensieri all'Unione Europea. Ma, spina nel fianco, sembra continuare a essere il monte dei Paschi di Siena, che nessuno si decide a comprare. Parliamo di intelligenza artificiale, perché proprio grazie all'intelligenza artificiale stanno cominciando a essere svelati, non voglio dire sono stati svelati perché alla fine c'è una parola sola, stanno cominciando a essere svelati i segreti di un papiro carbonizzato trovato nel XVIII secolo sotto la cenere del Vesuvio. Anche di questo scrivono in tanti. Comunque il papiro è italiano, la scoperta è americana, però ci riguarda da vicino. E vi citerò in questo episodio l'articolo di Telefran Saint-Poe, che racconta di come uno studente di 21 anni dell'Università del Kentucky sia riuscito finalmente a decifrare una delle parole che erano scritte sul rotolo di pergamena grazie appunto all'intelligenza artificiale. La scoperta risale al 1752 in una villa di Ercolano che potrebbe essere appartenuta al suocero di Giulio Cesare. Sullo stesso scaffale del rotolo in via di lettura c'erano un altro centinaio di manoscritti, soprattutto greci. Aprirli significava farli finire in cenere. L'unica strada da percorrere, quando finalmente la tecnica e l'elettronica lo hanno reso possibile moltissimi, direi due secoli dopo il ritrovamento, l'unica strada da percorrere è stata quella di scartarli virtualmente, visto che altrimenti, come vi dicevo, è cenere. In un primo momento, con le radiografie, si riuscì a individuare gli strati del rotolo e le parti coperte da inchiostro, ciò nonostante rimaneva impossibile leggerli. Con questi, infine, è scattata nelle università degli Stati Uniti la Vesuvius Challenge, la sfida del Vesuvio, con premi fino a 40.000 dollari per chi riesce a decifrare più di 10 caratteri. Ecco quindi che un primo studente, Luke Farrington, ha istruito l'algoritmo e gli ha insegnato a decifrare i segni su una porzione di 4 cm quadrati individuando una parola, una sola parola greca, ma, come si dice, un piccolo passo, un grande passo per l'umanità. Una parola greca che scrive l'articolo significa viola. E visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, per chiudere, è dall'Azerbaijan, Azer News, che titola Italia in prima linea sulla legge sull'intelligenza artificiale. E l'articolo riprende le parole del nostro vice-premier Tajani, il quale si è recentemente espresso al riguardo, affermando che il governo italiano è in prima linea per garantire l'affidabilità di questa importante famiglia di tecnologie d'avanguardia, tecnologie destinate a dare un contributo straordinario alla produttività e alla crescita dei nostri oltre 4 milioni di piccole e medie imprese. Quindi non solo per l'arte, non solo per l'archeologia, ma per gli affari, per il business. Innovazione e tecnologie di frontiera, detto ancora il leader di Forza Italia, sono tra i temi prioritari della nostra diplomazia della crescita e saranno al centro del nostro impegno alla presidenza del G7 nel 2024, perché il primo semestre dell'anno prossimo la presidenza del G7 sarà nostra. Con questa notizia vi saluto, vi aspetto domani, vi auguro buona giornata. Grazie. Grazie.